e sfida ai vertici e si comincia a fare sul serio Federico Giampaolo cambia dopo lo stop interno con il cupello turnovere butta dentro Bozzi, Simoni, Carbonelli, Ravanelli e il forte Ranieri Cristofari d'altro canto si affida ancora a Gentile, Santi Rocco è antichi e ripropone Tini in play davanti alla difesa le riprese del montaggio di Mario Giacchetta, il riconto visivo che va in onda con il calcio di inizio e 5 minuti e l'Aquila fa capire subito le intenzioni serie calcio da fermo pennellata di Peic che trova la testa di Lucarino pronto alla deviazione vincente subito vantaggio l'Aquila che rimane sugli scudi al 14 edimo con il contropiede finalizzato dal tiro di Di Ruocco che risulta insidioso al diciassettesimo sta per compiere un pasticciola torrese dal traversone di Tempestilli antichi retropassaggio inserimento di Carbonelli che non crede al regalo così come non dà forza alla testata e consegna la palla praticamente a Camaioni i giallorossi sempre in partita e l'Aquila però gestisce il vantaggio pungendo in controoffensiva come accade al ventottesimo Carbonelli taglia benissimo per Di Ruocco che in area si smarca dal difensore e impallina implacabilmente Camaioni per il 2 a 0 la torrese reagisce come può che però non trova spunti e spazi gentile sorvegliato speciale di Ravanelli e Scognamiglio è autentico spazzatore d'area rosso-blu primo tempo agli archivi nella ripresa al nono Cristofari gioca la carta festa e si mette a 3 davanti e a 4 in difesa al tredicesimo la torrese rimane in 10 di Nicola nella fretta di calciare la punizione manda palla addosso al direttore di gara e viene spedito direttamente negli spogliatoi torrese in 10 anticipo in certo di Mbup al ventesimo Ranieri rapace ma assolutamente inefficace nel cercare il gol che sarebbe stato mortale sul capovolgimento di fronte festa in velocità sulla destra si fa spazio col corpo ed una volta entrato in area spara di destro sul sinistra di Bozzi l'Aquila si smarrisce un po' la squadra di Cristofari prova a crederci 10 minuti dopo ancora festa al trentunesimo lato corto cerca il cross trova il tiro che taglia lo specchio della porta pericolosamente ultimo sussulto giallo rosso al quarantesimo Santi Rocco difende molto bene allarga per festa che converge cross in mezzo gentile tocca verso la porta provvidenziale tempestilli sulla linea allora mister prova di forza inequivocabile vittoria pulita voluta e trovata sì per noi oggi era importante dopo la sconfitta in casa col cupello volevo una reazione importante della squadra primo tempo molto bene siamo andati in vantaggio meritatamente secondo tempo un pochino meno bene perché in 11 contro 10 potevamo gestire meglio potevamo fare altri gol questo è un nostro problema che nella fase realizzativa quando c'è la c'è la possibilità di fare gol bisogna farli però il risultato era importante per cui abbiamo ripreso diciamo così questi tre punti fondamentali con una squadra forte un po la fotocopia del cupello secondo me giocando anche tre cinque due però questa volta abbiamo fatto un'ottima prestazione l'espulsione vi ha un po rallentati forse può essere questo insomma vi ha dato vi ha dato un po più di certezze quindi avete smesso di cercare la porta e infatti lì è sbagliato è perfettamente ragione perché in 11 contro 10 una squadra come la nostra deve palleggiare di più avendo la superiorità numerica invece ci siamo un po ritirati indietro la paura di prendere gol invece deve essere il contrario in 11 contro 10 ci devi attaccare qua sempre con equilibrio li devi far girare perché devi sfruttare la superiorità numerica e lì non siamo stati bravi allora mister avete incontrato una signora squadra però voi ci siete stati sempre siete mancati forse nel negli ultimi metri sì sì sapevamo da affrontare una squadra importante insomma l'approccio è stato sbagliato abbiamo preso gol dopo cinque minuti lì abbiamo perso un pochino di fiducia loro hanno preso campo hanno fatto due delle ripartenze importanti noi ci eravamo allungati un po dopodiché pian piano abbiamo cercato di rimetterci a posto abbiamo preso il secondo gol da lì forse è venuta meno la paura abbiamo iniziato a giocare magari un pochino più a viso aperto abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo ecco ha inserito festa peccato per aver perso di nicola per una ingenuità ma forse io è stato eccessivo anche l'arbitro insomma che poteva risparmiarselo quel rosso magari un giallo in ogni caso con festa mi siete sembrati migliori sì sì noi sappiamo che sasa può darci tanto e ho cambiato anche atteggiamento tattico abbiamo adottato una difesa a quattro e da lì i frutti sono sono stati sicuramente migliori sasa c'ha dato tanta spinta sulla sull'esterno poi come dicevi tu l'espulsione di di nicola un po compromesso i piani però nonostante l'inferiorità numerica abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo abbiamo creato un paio di situazioni importanti per poter accorciare non ci siamo riusciti grande merito va all'aquila noi ci corciamo le maniche che pensiamo domenica in bocca al lupo mister buona volta